Salve a tutti bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema che non si avvia Atvinas ovviamente se io adesso vado a cliccare su gioca mi dice che non inizia, non si avvia il gioco attraverso la libreria dove l'ho installato quindi faccio ok, vado su proprietà, file installati, sfoglia così, file locali vado direttamente a cancellare il discovery, cancello l'easy anti cheat, cancello anche l'unistall easy anti cheat cancello anche il start protect ed eccolo qua ok, discovery, sonda 4, questo qua pure cancello la sua cartella discovery ed eccola qua, chiudo qua, verifica integrità dei file di gioco 104 file non sono stati convalidati e verranno riscaricati farà così un aggiornamento e non ci resta che aspettare ok, una volta fatta la verifica poi scaricato e installato di nuovo il gioco vado nella sua libreria ed eccolo qua e faccio gioca e vediamo se si apre ed ecco che il nostro gioco the winner si è avviato abbiamo congelato così le cartelle, i file, abbiamo fatto la verifica ed è andato senza nessun problema puoi continuare a fare la verifica oppure puoi direttamente disinstallare il gioco e provare a reinstallarlo su un altro disco e sicuramente andrà e poi fai anche la verifica su quell'altro disco dove è installato questo gioco quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, facci al like e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo tutorial ciao